Ottime prestazioni per le scuole secondarie di secondo grado pistoiesi, specialmente licei infatti, dominano i primi posti della classifica elaborata da Eduscopio, tra le scuole dell'area metropolitana Firenze e Prato Pistoia, che meglio preparano i propri studenti all'università. Eduscopio è un portale gratuito nato nel 2014 dalla Fondazione Agnelli, che si propone di aiutare gli studenti nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Per la nuova edizione del report sulle scuole sono stati analizzati dati di circa 1.300.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici, in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie di tutta Italia. Pistoia è il primo posto per ben quattro tipologie di scuole. Tra i licei classici primeggia il vannucci Forteguerdi, che è in testa anche tra i licei delle scienze sociali e al quarto posto tra le scuole di indirizzo economico sociale. Tra i licei scientifici eccelle l'Amedeo di Savoia Duca d'Aosta, che si colloca al secondo posto anche per le scienze applicate. Tra i linguistici al primo posto c'è il Pacini, tra i licei artistici invece il Petrocchio è quarto su cinque, tra i 17 istituti ad indirizzo tecnico-economico dell'area metropolitana il primo tra i Pistoiese e il Capitini D'Agliana, che figura al terzo posto, seguito dal Pacini al quarto posto. Tra quelli ad indirizzo tecnico-tecnologico il Fedifermi di Pistoia si colloca al secondo posto, subito dopo il Buzzi di Prato. Se si va a guardare poi l'indice di occupazione delle scuole dell'area metropolitana, che quindi comprende oltre agli istituti tecnici anche gli istituti ad indirizzo professionale, abbiamo un altro primato pistoiese. Il Pacini si colloca infatti al primo posto tra i tecnici economici, quinto il Fedifermi tra i tecnici tecnologici, mentre tra i professionali legati ai servizi al terzo posto c'è l'alberghiero di Montecatini. Più basso invece in classifica troviamo all'ottavo posto il De Franceschi Pacinotti, che però è quarto tra i professionali per l'industria e l'artigianato, e l'Enaudi all'undicesimo posto.